Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è venerdì 17 febbraio 2023, bentrovati come sempre alla rassegna stampa di Fano TV, leggeremo insieme i giornali, oggi ci sono notizie molto molto interessanti a partire dalle aperture, vedremo poi qual è la notizia con la quale iniziano le pagine dei giornali con cronaca locale, ma intanto noi passiamo con l'almanarco del giorno e vediamo che oggi si festeggia non un santo, bensì sette santi, sono i sette fondatori dell'ordine dei servi di Maria, vivevano a Firenze nel XIII secolo, erano patrizi quindi di famiglia benestante, questi i loro nomi, Bonfiglio Monaldi, Buona Giunta Manetti, Manetto dell'Antella, Amodio degli Amadei, Uguccione degli Uguccioni, Sostegno dei Sostegni e Alessio dei Falconieri, tutti ebbero contemporaneamente una visione mentre erano in chiesa a Santa Maria Maggiore, da allora si dedicarono ad una vita di preghiera e penitenza e fondarono appunto l'ordine dei servi di Maria che continua ancora oggi. Le previsioni del tempo. L'anticiclone rinnova un tempo stabile su tutta la regione, ecco la grafica, ci sono spazi ampi soleggiati alternati a sterile nuvolosità di passaggio, le massime arriveranno fino a 14 e 15 gradi, le minime si attesteranno sui 4 gradi, i venti spireranno sulle coste da ovest e all'interno da ovest e nord-ovest, il mare è mosso. Le aperture, ora vediamo le aperture, sono le stesse in entrambi i giornali, noi cominciamo con il Corriere Adriatico. Si è dimesso il Vescovo Trasarti, il Vescovo di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola, la Diocesi attende il suo successore. Ieri il Vescovo ha compiuto 75 anni e ha inviato la lettera di congedo, tante comunque le testimonianze di affetto, questo è il titolo che appare sul Corriere Adriatico, vediamo quello che invece indica questa iniziativa, il resto del Carlino. Il Vescovo Trasarti lascia, ma la Diocesi resta autonoma. Come stabilito dal diritto canonico, il pastore di Fano ha rimesso il mandato al Vaticano, presto verrà nominato il successore, sarà proclamato tra settembre e ottobre, queste le previsioni. Il Vescovo dunque andrà in pensione, al momento resta a svolgere la sua attività ordinaria, non potrà svolgere iniziative che precluderanno poi l'attività del prossimo Vescovo, comunque rimarrà tra di noi finché non si insiedierà il nuovo presule. Ieri, dicevo, il Vescovo Armando Trasarti ha compiuto 75 anni, di cui non pochi sono stati come una presenza attiva ed incomiabile nella città di Fano, ma direi su tutto il territorio. Il Vescovo Trasarti non è stato solo un punto di riferimento dal punto di vista religioso, ma lo è stato anche dal punto di amministrazione della Chiesa. Ha restaurato tanti, tanti edifici, è stato attivo dal punto di vista culturale, ha realizzato veramente un incremento per quanto riguarda la situazione ecclesiastica della nostra città. Dicevo, il commiato, ieri il Vescovo ha scritto una lettera indirizzata a tutti i fedeli, ha detto, benedico tutti e chiedo la preghiera di tutti affinché il Signore mi conceda di servirlo ancora e sempre nella serenità. Monsignor Trasarti, lo ricordiamo, ha iniziato il suo incarico nell'ottobre del 2007, quando è arrivato non lo conosceva nessuno, ma non ha perso tempo per farsi apprezzare, dicevo, per la sua attività, per il suo carattere e per la sua disponibilità. Tante, tante le attestazioni di simpatia rivolte al presule, lo vediamo soprattutto sul resto del Carlino. La politica cittadina esprime gratitudine e affetto per il Vescovo di Fano. Massimo Seri, il Sindaco, è stato per tutti noi una presenza importante di cui gli siamo grati. L'assessore Samuele Mascarin confessa, io sono ateo, ma apprezzo moltissimo il Vescovo Trasarti. È stato un punto di riferimento per tutti, credenti e non credenti. Luca Serfilippi, consigliere regionale, più volte ci ha richiamato alla promozione della pace, della giustizia, della solidarietà, invitandoci sempre a guardare alle diseguaglianze sociali e alle fragilità. Il Movimento 5 Stelle, fuori da ogni tentazione retorica, come è nello stile di Trasarti, i fanesi hanno avuto modo di conoscere non solo il suo impegno effettivo a favore degli ultimi, ma anche il coraggio della schiettezza per quanto riguarda le sue dichiarazioni quando c'era bisogno di attirare l'attenzione su un problema o di redarguire qualcuno che non faceva il suo dovere. Questo era Armando, e questo è ovviamente, Armando Trasarti, ancora oggi Vescovo di Fano. Vediamo le altre notizie. Giriamo la pagina e parliamo del Carnevale. Parliamo del Carnevale. Ieri era giovedì grasso. In piazza a Fano si è svolta la cerimonia della consegna della fascia da sindaco, dal sindaco stesso. In realtà il sindaco non c'era, era a Roma. Lo ha fatto in sua vece il vice sindaco Cristian Fanesi, al sindaco del Carnevale, che quest'anno è stato nominato a questa carica Daniele Gaudenzi. Daniele Gaudenzi è il direttore della musica arabita, che lo sappiamo ormai tutti, quest'anno compie cent'anni, quindi una carica guadagnata sul campo da tutto il complesso, oseremmo dire. Le chiavi della città, il direttore della musica arabita, ieri festa in piazza per i bimbi ed oggi si entra nel club, perché ormai siamo nella parte conclusiva del Carnevale. Si moltiplicano le feste, domenica ancora una nuova sfilata di carri e fino a martedì ci saranno veglioni, concerti, iniziative, feste, insomma ancora il Carnevale in pazza, nonostante che i problemi ci siano, ma è bene dimenticarlo almeno per qualche giorno per poi riprendere l'attività normale quando arriverà la quaresima. Le altre notizie. C'è stato un problema nel quartiere della Paleotta ieri, dirlo un problema e dir poco, perché i lavori che sono stati fatti per realizzare dei sottoservizi, in realtà invece di produrre dei benefici, hanno creato dei grandi problemi. Invece di ripristinare la carreggiata con il bitume, è stato usato un cemento, un cemento che si è presto polverizzato, creando una nube che ha invaso tutta la via, ha invaso le macchine che erano in sosta, ha invaso gli ambienti all'interno delle case, ha invaso i giardini. Insomma ha creato molti problemi, soprattutto alle persone che avevano difficoltà di respirazione, chi soffriva d'asma soprattutto. Insomma, cittadini inviperiti, per quanto è accaduto, è responsabile una ditta che è in relazione alla Telecom, si dovevano sottoporre sotto la strada i sottoservizi, la fibra ottica e quindi c'è stato questo problema. È intervenuta anche l'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori, la quale ha notificato di avere inserito l'asfaltatura generale della strada nel piano delle asfaltature, che verrà approvato anche nel bilancio che andrà in discussione in Consiglio Comunale nei primi giorni del mese di marzo e allora il problema sarà risolto. Ma intanto occorre far sì che la polvere non si sollevi più e giovedì prossimo dovrebbe intervenire un autobotte dell'ASET a risolvere la situazione. Comunque questo non placa le proteste dei cittadini, i quali si sono sentiti veramente oggetto così di un problema non da poco che ha sconvolto un po' tutta la vita della giornata di ieri. Altre notizie, vediamo la pagina di Senigallia. Segni nel tempo e blizze vandalici, la Fontana dei Leoni perde i pezzi, quindi il tempo, l'usura, le condizioni atmosferiche, ma anche gli atti vandalici ai danni di questo monumento. Lì non c'è più acqua, serve un intervento per eliminare le lesioni del monumento di Piazza Duca, un monumento centrale, quindi un monumento che dà visibilità. Lesionata, la Fontana di Piazza del Duca e i Leoni che la circondano sono stati imbottiti di immondizia. Nel primo caso si tratta di un danno accidentale, nel secondo invece all'inciviltà di chi non ha rispetto per i beni pubblici. Accade dunque in Piazza del Duca, una piazza centrale di Senigallia, nel cuore, nel centro storico. La Fontana dei Leoni si trova nella piazza dove si affacciano Palazzo del Duca, Palazzetto Baviera e la Rocca Roveresca, quindi anche un punto di rappresentanza ed è veramente un danno, un autolesionismo quello che alcuni cittadini di Senigallia fanno a danno di loro stessi. Vediamo ora qualche notizia di Pesaro. Il Corriere Adriatico inizia con i lavori di San Domenico, i lavori di San Domenico che comporteranno lo spostamento, eccolo qua il titolo, comporteranno lo spostamento del mercato delle erbe, in Piazza delle Erbe. A Pesaro, i pesaresi ovviamente lo sanno, in pieno centro storico, appena pochi passi da Piazza del Popolo, c'è un mercato delle erbe, un mercato storico che è un punto di riferimento per tutti coloro che vivono nel centro storico e quindi devono fare la spesa. Gli operatori del mercato delle erbe dovranno lasciare il chiostro a giugno perché ci si faranno dei lavori e insomma l'alternativa ancora è un po' certa e probabilmente non è nemmeno di loro gradimento e infatti qui abbiamo la rabbia di Ipaso che esprime un po' il parere della Confesercenti. Ancora una volta siamo stati ignorati dal Comune, ha detto, non c'è stata alcuna concertazione. Vediamo la roadmap dell'ex convento qui in questa tobella. 7 milioni 600 mila euro di fondi PNRR per il recupero di tutto il complesso di San Domenico. San Domenico era un'antica chiesa di stile gotico appunto che era nel centro di Pesaro, poi la chiesa è stata così adibita a Palazzo delle Poste e quindi ora c'è la bella facciata che è stata tutta ristrutturata che dà verso la piazza ed ora ci faranno dei lavori. Nelle casse del Comune è arrivato per il momento il 10% del finanziamento, quindi 760 mila euro. Entro luglio ci sarà l'affidamento dei lavori e l'apertura del cantiere. Entro settembre del prossimo anno, del 2024, dovrebbero essere realizzate almeno il 30% delle opere e dentro il 31 marzo del 2026, quindi si tratta di un progetto a lungo termine, dovrà essere certificato il collaudo e la fine dei lavori. Questo per quanto riguarda San Domenico. Vediamo ancora altri... no, volevo farvi vedere anche come la notizia viene riportata dal resto del Carlino. Eccolo qua il titolo. Lavori al via per ristrutturare San Domenico, sfrattati gli ambulanti e ora dove andiamo? Tra le ipotesi ci sono piazzale Carducci oppure piazzale Matteotti. Comunque loro protestano, gli ambulanti protestano. Non sapevamo nulla spostati proprio quando si lavora di più, perché è il periodo estivo quando ci sono i turisti che i fruttivendoli lavorano maggiormente e quindi fanno più incasso. Ma oltre a San Domenico ci sono novità anche per quanto riguarda il mercato di San Decenzio. Il mercato qui langue. Trasferiamo le bancarelle del cibo. L'idea è spostare soprattutto l'area food, che invece è vitale, in mezzo agli altri rivenditori per diversificare l'attrattiva. Ma gli ambulanti però non ci stanno, protestano. Nessuno vuole lasciare un luogo garantito per un altro che è un'incognita. soprattutto la posizione per un ambulante è importante, perché ormai il cliente si è fatto l'idea dove trovarlo e se poi si deve mettere a cercarlo in mezzo al mercato, magari si ferma alla prima bancarella che trova e ignora il suo fornitore abituale. Ecco perché appunto la posizione costituisce un valore aggiunto per chi opera nel mercato e nessuno la vuole lasciare. Torniamo ora al Corriere Adriatico e giriamo la pagina. Per quanto riguarda le notizie pesaresi, parliamo di antenne. Nuove antenne per i borghi sono troppi. Il Comune apre un regolamento ad hoc. C'è stata un'animata assemblea con i residenti di Novilara, Candelare, Ginestreto. Preservate il paesaggio. Ebbene, quando si elevano nuove antenne ci sono sempre delle proteste. Prima di tutto per i timori che le antenne possano danneggiare la salute con le loro emissioni di onde elettromagnetiche e poi perché rovinano il paesaggio. È un po' come mettere quei grossi pali eolici, quei grossi pali che generano energia elettrica con le pale che girano al vento. Insomma, sono utili per quanto riguarda le energie alternative, ma sono brutti dal punto di vista estetico per quanto riguarda il paesaggio ed è un controsenso che non si riesce mai a risolvere. Appalti pubblici come l'Everest, per i piccoli sono insormontabili. Dopo l'allarme lanciato per il super bonus, la CNA apre un altro fronte legato anche al nuovo codice. È il problema del super bonus e si aggrava sempre di più. Ieri, nel momento in cui sia la provincia e anche il comune di Fano, si erano mostrati disponibili ad assorbire parte del super bonus che avevano avuto come referenti gli istituti di credici, il governo ha detto no, basta, blocchiamo tutto. Le istituzioni, comune e provincia, non sono autorizzati a rilevare appunto queste cifre. Pena un grosso dissesto economico da parte dello Stato. E questo pone a rischio molte, molte imprese. Lo vediamo anche sul resto del Carlino, che parla proprio di questo problema. Bonus ai cantieri, la bolla rischia di scoppiare. L'analisi è di Marco Rossi, presidente delle costruzioni regionali CNA. Se a marzo ci sarà lo shock di liquidità, pericolo, strage di imprese. Dunque è un pieno di cantieri. Sono circa 700 in tutta la provincia. I cantieri che hanno, così, si sono stati rivitalizzati dal super bonus. Tutto fiorire di gru, anche se molti appalti camminano a rilento, per non dire che sono quasi fermi. Una macchina, quella del bonus, a partire dal 110, che ha messo in moto non solo l'industria del mattone, non solo l'edilizia, ma tutta un'area di filiera, di cui fanno parte idraulici, elettricisti, il settore del mobile, insomma tutti coloro che realizzano i servizi all'interno di una abitazione. E se a fine marzo, quando dovranno essere smaltiti, tutti i crediti accumulati nel 2022 non si riuscirà, si rischierà una vera e propria strage di imprese per mancanza di liquidità. E' quello che ha rilevato appunto Marco Rossi, presidente dei costruttori della CNA a livello regionale. Continuiamo il nostro esame, sempre sulle Corriere Adriatico, e vediamo come si parli di sanità. Vaccini, il PM chiede l'archiviazione, ma il giudice vuole più accertamenti. Si tratta del fascicolo aperto dopo la denuncia presentata da un legale sulla conformità della composizione. L'inchiesta sui vaccini a Pesaro non si archivia, il GIP non archivia il caso. E lo studio del consulente trova un corrispettivo in due riviste internazionali di biologia. Nei mesi scorsi l'avvocatessa Nicoletta Morante aveva presentato una denuncia rispetto alla composizione dei vaccini Covid-19 per chiarire se fossero stati somministrati farmaci alterati oppure non conformi. E quindi si va avanti su questa storia, su questa situazione. Vediamo anche la pagina di Urbino. I danni della neve al Palace, solo interventi tampone. Viva Urbino, la lista civica Viva Urbino e il Partito Democratico sollecitano il ripristino dell'attività. Basket giovani a rischio. Beh, insomma, se non si interviene veramente non si potrà più usare il palazzetto dello sport. L'ultima nevicata ha infatti inferto il colpo di grazia al palazzetto, a tutta la costruzione. E i consiglieri comunali Davide Balducci, Carolina Borgiani, Mario Rosati e Lorenzo Santi, di Viva Urbino e poi anche il Partito Democratico chiedono all'amministrazione comunale le ragioni di un parziale e insufficiente intervento. Se si vuole intervenire occorre farlo nella tutta, nella completezza per salvare la struttura, altrimenti è inutile fare un intervento parziale perché dopo pochi giorni probabilmente occorrerà intervenire di nuovo. Diamo ancora un'occhiata al resto del Carlino dopo aver visto la situazione che riguarda i cantieri e il bonus. Torniamo alla pagina di Fano. Abbiamo visto l'apertura dedicata al Vescovo e vediamo ora come un articolo firmato da Tiziana Petrelli parli di matrimoni. Cresce il numero dei matrimoni civili a Fano, anche il Comune si apre al business. Sì perché poi il matrimonio è un business per tanti tanti operatori. Pensiamo ai ristoranti, pensiamo ai fiorai, pensiamo ai fotografi, a coloro che confezionano i vestiti da sposi. Insomma ci sono anche le location adesso. Le location perché l'amministrazione comunale di Fano ha aperto all'apporto dei privati la possibilità di svolgere i matrimoni in luoghi suggestivi, in luoghi fuori da quello del Comune. Cresce il numero dei matrimoni civili. Dei 112 celebrati dal Sindaco e dei suoi delegati nel 2022, 89 si sono svolti nella Sala della Concordia, che rimane sempre il punto principale dell'evento. Insomma Sala della Concordia è la sala di rappresentanza che si trova all'interno del Palazzo del Comune. Nell'ultimo periodo stiamo rilevando un incremento di turisti stranieri che vengono proprio a Fano per sposarsi, perché che fanno mostra una cornice ideale per svolgere il matrimonio. Allora abbiamo detto che il numero dei matrimoni civili in città nel 2000 era stato di 93 civili e 57 religiosi, mentre nel 2022, cioè l'anno scorso sono stati 112, quindi i 93 civili sono aumentati a 112, mentre quelli religiosi erano 57 nel 2021 e sono 56 nel 2022, quindi è calato di una unità. Di conseguenza crescono i professionisti del settore dopo il periodo oscuro del Covid, quando pochissimi si sono sposati, ora invece i matrimoni hanno ripreso in maniera molto molto efficace, insomma molto molto importante. E quindi dicevo fotografi, i wedding planner, il catering, l'affitto di residenze private, fotografi e via dicendo. E così anche il Comune ha pensato di entrare in questo affare che nel nostro territorio, ricco di storia e di bellezze paesaggistiche, ha un potenziale immenso. Dei 112 riti celebrati dal sindaco e dei suoi delegati lo scorso anno, 89, dicevo, sono svolti nella sala della Concordia, messa a disposizione ad un prezzo che uscilla dagli 88 ai 150 euro. 15 si sono celebrati nella chiesa di San Francesco, ma qui il prezzo è superiore, costa tra i 550 e i 650 euro. Poi abbiamo altri luoghi, per esempio il Teatro della Fortuna, il cui prezzo però qui può arrivare anche a 1100 euro. Se uno si vuole sposare all'interno del Teatro della Fortuna con alle spalle il bellissimo sipario del Grandi, ebbene paga 1100 euro. È una cifra non poco, insomma. È una cifra importante. Nessuna coppia ha scelto di celebrare le proprie nozze nella spiaggia libera di Sassonia. Anche le spiagge erano un luogo indicato dal Comune per sposarsi. Però, insomma, davanti all'Anfiteatro Rastat, lo vediamo qui in questo sommarietto, non c'è stato nessuno che ha scelto, anche perché, insomma, di privacy ce ne sarebbe stata molto poca d'estate. In modo particolare le spiagge sono molto, molto affollate. Ed ora parliamo di Colle Marathon. Parliamo di Colle Marathon perché i nostri andranno a partecipare anche ad una maratona a Vienna e in quella occasione promuoveranno anche la nostra maratona, quella che si è salvata per un pelo e quindi si rifarà il prossimo mese di maggio. Grande promozione in Italia e all'estero, anche sulle più prestigiose rive del Danubio per la diciannovesima edizione della Colle Marathon, che dopo aver rischiato di saltare si disputerà regolarmente il 7 maggio prossimo. In questa fotografia vediamo Annibale Montanari che ha su attivo ormai tantissime maratone e che è il più convinto e impegnato promotore della corsa che si svolge dalle nostre colline fino al mare. Per quanto riguarda il bilancio del Comune che verrà presentato prossimamente in Consiglio Comunale, si parla dell'inizio di marzo, lo strumento contabile ha ricevuto l'ok della Giunta e quindi tra breve terminerà l'esercizio provvisorio. E poi in questo altro articolo vediamo come si è svolta ieri a Roma la presentazione del francobollo che ritrae la maschera del Voulon e quindi le poste hanno fatto attenzione, hanno dato attenzione anche al Carnevale di Fano insieme ad altri carnevali storici, sono i carnevali più antichi d'Italia, quali Venezia, Putignano, Acireale, Cento e Viareggio. Ieri una delegazione di Fano capeggiata dal sindaco, c'era anche l'assessore al turismo Etienne Lucarelli, c'erano ovviamente i vertici della Carnevalesca, ci sono recati a Roma per la presentazione del francobollo. A Urbino, a Urbino nuovi alloggi universitari, l'ora delle decisioni, il Consiglio Comunale è chiamato a prendere posizioni su un progetto finanziabile, il riutilizzo degli hotel Montefeltro e Piero della Francesca che potrebbero essere adibiti a foresterie per ospetare appunto gli studenti che vengono da altre regioni a studiare nella città ducale. Ed ora diamo un'occhiata anche alla cronaca. Travolta sui binari, addio oggi a Patrizia. Si svolgeranno oggi pomeriggio i funerali di Patrizia Federici, la donna di 44 anni, tragicamente morta nella notte tra martedì e mercoledì nella stazione ferroviaria di Alba Adriatica in provincia di Teramo, travolta da un treno merci mentre attraversava i binari per prendere il treno Pescara-Novara. E poi vediamo un incendio, si è scaturito a Ferminiano un cortocircuito a fuoco sotto tetto di casa con tre famiglie. Ebbene sono intervenuti in questo caso i vigili del fuoco da Urbino e anche da Pesaro con tanto di scala allungabile per domare un incendio che si era sviluppato nel tetto di una casa e quindi è stato disposto anche l'evacuazione di una famiglia. Pare che a scatenare le fiamme sia stato un guasto elettrico della caldaia che si trova in una delle stanze appunto nel piano alto. E poi si parla anche del Carnevale di Cagli, un carnevale pensato per tutte le età, dice oggi il resto del Carlino. L'iniziativa si terrà appunto da oggi a domenica. E con questa notizia concludiamo la nostra rassegna stampa. Io vi do appuntamento come sempre alle 7 di domani mattina mentre vi invito a seguire il ETG di Fanno TV Occhio alla Notizia, oggi alle 20.30 per le notizie del giorno. Grazie per l'ascolto. A risentirci.